Osteopatia a servizio di pazienti migranti con disturbo da stress post-traumatico. È stato questo l'obiettivo del lavoro condotto da Luca Marconi-Sciarroni, osteopata, e Vanessa Osimi, operatori del progetto. Lo studio è promosso dall'Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale di Pescara in collaborazione con la cooperativa sociale On the Road di San Benedetto. Dottor Marconi-Sciarroni, com'è nato lo studio di questo progetto? Lo studio di questo progetto nasce dalla volontà di accostare il trattamento manipolativo osteopatico al disturbo post-traumatico da stress in una categoria molto particolare di pazienti quale quella dei pazienti immigrati, vittime di tratta degli esseri umani. Abbiamo svolto questo progetto attraverso la collaborazione della cooperativa sociale On the Road e abbiamo portato avanti un progetto nato dalla volontà di aiutare chi voce non ha e chi si ritrova molto spesso ai margini della società. Ecco, dottoressa, come si è sviluppato in particolare questo progetto? Il 20 ottobre del 2023 ci siamo ritrovati presso la cooperativa sociale On the Road e abbiamo conosciuto questi sette ragazzi immigrati che si sono messi a nostra disposizione per approcciare questo nuovo intervento terapeutico. Abbiamo ascoltato le loro storie che mi hanno toccato nel profondo perché hanno l'età dei miei figli e quindi mi è sembrato assurdo che si potessero vivere esperienze così traumatiche. Per avere dei riscontri scientifici sul lavoro che stavamo facendo li abbiamo sottoposti a dei test psicologici con il dottore Andrea Fiorilli che è uno psicoterapeuta con esperienza nei disturbi da stress post-traumatico e li abbiamo sottoposti a un altro esame tramite fotopletismografo che ci è stato offerto dall'Accademia Osteopatica Italiana di Pescara in collaborazione con il dottor Matteo Pallottini e dopo sette trattamenti abbiamo avuto dei riscontri sia scientifici che umani perché la gratitudine che abbiamo letto nei loro occhi è stata la nostra più grande ricompensa questi ragazzi hanno commesso l'unico grande errore di nascere nel posto sbagliato al momento sbagliato come dice Luca e quindi devo ringraziare il dottor Silvio Franchi che ci ha aiutato e ci ha messo a disposizione il suo tempo e la sua professionalità con entusiasmo e devo ringraziare il dottor Luca Marconi-Sciarcolorni che mi ha convolto in questa esperienza che mi ha accresciuto notevolmente a livello umano e quindi grazie di cuore Luca Ecco dottore c'è altro che vuole aggiungere in merito a questa esperienza? Sì, allora durante i miei anni di studente universitario ho avuto la possibilità durante i mesi estivi di viaggiare molto zaino e spalla la scoperta del mondo in maniera diretta il fondamento di ogni viaggio è stato sempre l'incontro umano e nell'altro ho scoperto sempre nuovi mondi e nuove situazioni ed esperienze di vita che mi hanno aperto diciamo al mondo per come non lo conosciamo comunemente occorre maggiore sensibilità, rispetto e attenzione e cura e ricordarsi sempre che chi si ha di fronte non... insomma sta vivendo una battaglia e una vita di cui non sappiamo nulla e che spesso ignoriamo spesso appunto situazioni che ci sono molto lontane e lontane dal nostro stile di vita italiano, europeo grazie, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento su Radio Azzurra